Prima di iniziare il video però vorrei chiedere a tutti coloro che mi stanno guardando in questo momento e che non sono ancora iscritti al mio canale di YouTube di iscriversi qui sotto e di attivare anche la campanellina a voi costa poco però potete aiutare il mio canale a crescere e a diventare sempre più conosciuto grazie quindi l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale è una prestazione economica quindi stiamo parlando di soldi sonanti questo vuol dire che si possono appunto ricevere dei soldi e viene concesso a tutti i commercianti che svolgono una determinata attività e che chiudono o smettono di lavorare senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia questo indennizzo non è proprio una novità perché è già attivo dal primo di gennaio del 2019 con la legge di bilancio proprio del 2019 l'indennizzo è autofinanziato dall'Inps e arriva direttamente dal fondo della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali quanto spetta? quanti soldi? l'importo che viene pagato corrisponde al pagamento minimo della pensione di tutte le persone che sono iscritte alla gestione commercianti per il 2019 per esempio il pagamento minimo era di 513 euro e la cosa bella di questo indennizzo è che il pagamento viene fatto ogni singolo mese non sono previsti dei pagamenti extra come per esempio gli interessi legali la rivalutazione monetaria l'applicazione di trattenute sindacali e per ultimo nemmeno i classici trattamenti di famiglia bisogna solo fare attenzione perché questo indennizzo non è proprio gratuito e attenzione come potrebbe sembrare ma bisogna anche pagarci le tasse sopra infatti bisogna poi indicarlo in dichiarazione dei redditi quindi un reddito ancora da tassare a chi è rivolto? questo indennizzo è rivolto solo ed esclusivamente a tutte le persone che sono iscritte alla gestione commercianti che però hanno avuto solo determinati tipi di attività commerciali e ora ti faccio l'elenco di chi sono queste persone sono quattro tipi di attività 4 chi ha avuto un'attività commerciale con vendita al minuto in sede fissa chi ha avuto un'attività commerciale su aree pubbliche anche itinerante quindi che girava sia che sono stati titolari dell'attività e sia che sono stati poi oppure dei coadiuttori chi ha avuto un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia che siano stati titolari e sia che siano stati dei coadiuttori e tutti gli agenti e rappresentanti di commercio chi è escluso cioè chi non potrà ricevere l'indennizzo bisogna fare attenzione perché non tutti possono ricevere questi soldi e una grossa categoria che viene esclusa è quella dei commercianti all'ingrosso a meno che la stessa attività non era collegata a un'attività di vendita al pubblico poi sono esclusi anche tutti coloro che hanno avuto un'attività di commercio elettronico chi faceva la vendita presso il domicilio dei consumatori chi faceva la vendita per corrispondenza oppure in televisione tutti coloro che facevano la somministrazione o la vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico come per esempio i titolari dei bar negli ospedali nelle scuole, nei circoli privati o nelle mense e per ultimo chi aveva un'attività di intermediazione come per esempio i procacciatori, gli agenti d'affari, gli agenti assicurativi gli agenti immobiliari e i promotori finanziari da quando inizia e quanto dura? l'indennizzo inizia a essere pagato già dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si presenta la domanda ovviamente sempre che a quella data la persona abbia tutti i requisiti che vedremo più avanti nel video è molto importante non deve avere nessuna altra attività lavorativa in corso quindi per capirci deve essere già stata cancellata l'attività commerciale dalla camera di commercio e deve essere chiusa anche la partita iva e questo indennizzo viene pagato fino a quando non si compiono gli anni per andare in pensione incompatibilità l'indennizzo è incompatibile con chi svolge un'attività di lavoro autonomo oppure era dipendente l'inps smetterà di pagare questo indennizzo nel momento in cui si riprende a lavorare sia come dipendente che come commerciante infatti la persona entro 30 giorni dovrà comunicare all'inps che ha ricominciato a lavorare anche se in realtà adesso che è tutto telematico l'inps comunque lo scopre già da sola che una persona ha ricominciato a lavorare quindi sotto questo aspetto io non capisco in realtà come mai bisogna fare domanda quando in realtà già l'inps lo sa inoltre non verrà pagato nessun indennizzo se la persona prende altri tipi di pensione come per esempio la pensione anticipata l'assegno ordinario di validità o la pensione di inabilità ora vediamo i requisiti per poter fare la domanda e l'indennizzo spetta alle persone che hanno questi tre requisiti dal primo di gennaio 2019 in avanti quindi dall'entrata in vigore la persona deve aver chiuso definitivamente l'attività commerciale riconsegnando al comune la licenza o l'autorizzazione poi come ho già detto prima nel video deve comunicare la cancellazione alla camera di commercio o al rea al repertorio economico amministrativo che adesso non vi sto a spiegare che cos'è secondo nel momento in cui si invia la domanda per l'indennizzo bisogna aver già compiuto 62 anni per gli uomini oppure almeno 57 per le donne terzo punto al momento della chiusura dell'attività devono essere stati versati almeno 5 anni nella gestione speciale commercianti e la concessione dell'indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia ma è compatibile con gli altri trattamenti pensionistici diretti come fare domanda la domanda per avere l'indennizzo si può presentare sia con internet direttamente sul sito internet dell'inps nella sezione domanda di indennità commercianti oppure con questi altri due sistemi con il centralino telefonico dell'inps di cui già conosciamo i numeri di telefono oppure con i CAF e i patronati e in questo caso ovviamente ci saranno a pagare delle spese per il servizio offerto bene per oggi è tutto grazie per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi al mio canale di youtube qui sotto e di attivare anche la campanellina e poi se avete delle altre domande potete commentare qui sotto così posso leggere le vostre richieste e poi posso prepararvi un video dedicato proprio qui sul mio canale di youtube con questo è tutto ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale vi aspetto ciao grazie a tutti